E' stata una domenica bestiale, mi verrebbe da dire buonasera, buonasera cari telespettatori a tutti voi per lo sport trapanese del territorio, davvero c'è da parlare tanto e bene, lo facciamo presento subito gli ospiti questa sera con Fabrizio Carboni, capitano del Trapani, goleador, buonasera Fabrizio il miglior realizzatore di questa stagione Granata insieme a un paio di compagni, Cosovan e Cangemi e poi Norbert Biasizzo che sta provando a scendere da una nuvola ma non ce la fa difficile, buonasera, buonasera a tutti in procinto di disputare dopodomani una gara 1 memorabile ed epica per lo sport trapanese di finale scudetto con l'handball erice e Alex Latini, assistant coach, si dice ancora così no? Io sono della palacanestro Trapani che ieri ha chiuso i suoi impegni ma non si può che parlare bene di questa squadra per come si è comportata durante tutta la stagione realizzando un vero capolavoro con la salvezza. Apertura d'obbligo per l'handball erice perché è un risultato storico che arriva Norbert dopo un altro risultato storico che è quello della vittoria della Coppa Italia e quindi c'è da mettere insieme un po' di emozioni, di fattori emotivi ma anche da essere più razionali possibili e cercare di capire come affrontare questa sfida. Sì, ieri come era doveroso abbiamo sofferto tantissimo il Brixen perché ripetiamo abbiamo giocato contro i campioni d'Italia uscenti e i campioni anche della Coppa Italia uscenti quindi per noi sono state partite veramente intense, loro hanno giocato il tutto per tutto per ribaltare il risultato ed è stata veramente dura. Quindi ieri era doveroso, un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno veramente sofferto perché si è sofferto tanto sia in campo che anche sugli spalti e quindi ieri festeggiamo, siamo molto contenti, è giusto festeggiare ma oggi già siamo nuovamente con la testa alla partita che ci aspetterà fra due giorni, un impegno storico come l'hai detto tu per tutto il territorio, noi ci sentiamo veramente un carico e siamo onorati di portarci questo carico perché è fin dall'inizio dell'anno che era uno dei nostri obiettivi, anche questo quello di disputare e di fare bene ai playoff e ci siamo riusciti quindi adesso siamo arrivati proprio al rush finale ed è giusto che dobbiamo ormai dobbiamo andare all in, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo quindi siamo già pronti, siamo concentrati, siamo nuovamente sul pezzo insomma ce la giocheremo, sappiamo che dall'altra parte c'è il Salerno e sappiamo chi è il Salerno. Piano piano adesso ne parliamo eh Norbert, anche perché c'è da capire soprattutto e te lo chiedo da comuni di sport, te lo chiederò fra un po' perché adesso facciamo un giro con gli altri ospiti, come si può recuperare così velocemente dal punto di vista psicofisico, sono tutte partite importantissime e tutte giocate da stretto giro di posta. Ma comunque parliamo di all in dal Texas Hold'em, passiamo al calcio e al basket che hanno comunque comune denominatore Valerio Antonini, ormai è stato l'Antonini dei veri e proprio, ieri prima stadio, poi palazzetto, era stato un sabato prima di comunicazione, è stato, l'abbiamo definito un vero ciclone per la nostra città nell'ultimo mese che è piombato e ha stravolto tutto. Parto da Fabrizio Carboni, chiedo di questa bellissima vittoria di ieri, sofferta come tutte le vittorie più belle, le sensazioni che hai ricevuto dal campo con uno stadio finalmente così pieno e anche con la soddisfazione di battere il Catania, una squadra così prestigiosa che ha già stravinto il campionato da tante giornate. Sì, diciamo che è stata sicuramente una settimana intensa sotto tanti punti di vista, volevamo far bene per tanti motivi, perché sapevamo che il Presidente ci teneva tantissimo, perché sapevamo che veniva tanta gente allo stadio e poi soprattutto perché volevamo disputare questi playoff perché per noi significano tanto e vogliamo andare avanti, domenica avremo una partita importantissima e difficile, però ci dobbiamo preparare già da domani perché dobbiamo fare bene. Sì, sarà tra Paena Mezzia, sarà domenica prossima per l'altra semifinale playoff, la chiamiamo così, si aspetta il risultato di San Luca Licata che è stata interrotta, vedremo chi giocherà contro i Locri, lo sapremo successivamente. Alex Latini invece archiviamo, innanzitutto fammi spendere due parole per Daniele Parente, come dire, persona amata, stimabile, dispessore, oltre che bravissimo allenatore che ieri ha subito incredibilmente un infortunio grave allenando, accrosciandosi, probabilmente senza ledere la privacy però dovrà andare sotto i ferri e quindi un in bocca al lupo, oltre che complimenti enormi a Daniele Parente. Dicevo Alex, il mezzo bicchiere è strapieno, non pieno, è un bicchiere pieno, rimane forse un filo di rammarico perché ieri si poteva portare a casa e quindi si poteva portare a casa anche questa partecipazione in playoff. Sicuramente se dobbiamo fare una valutazione generale e quindi ed è secondo me doveroso a fine stagione per quanto riguarda la società e per quanto riguarda noi staff tecnico fare una valutazione più generale è assolutamente il bicchiere più che mezzo pieno. Rimane il rammarico di ieri, avevamo la partita in pugno, poi purtroppo l'abbiamo detto ieri in conferenza io penso sia stata e noi pensiamo sia stata un po' di mancata lucidità alla fine quando Lotti per sopperire alla taglia fisica che ti mettevano addosso gli avversari purtroppo siamo arrivati il quarto quarto veramente poco lucidi e quindi per episodi alla fine la partita c'è scappata di mano però penso che il girone di ritorno quindi le ultime tre partite la squadra ha fatto la prestazione, probabilmente quello di cui ci dobbiamo un attimo più preoccupare se dobbiamo rammaricarci di qualcosa forse sono state la prima e la seconda partita di questa seconda fase quindi la prestazione Nardò e quella Rimini in casa lì abbiamo perso dei punti importanti che poi ci hanno fatto pagare e non siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo playoff. Ma insomma è veramente il male minore quello che ha descritto Alex, ribadisco un vero capolavoro compiuto dalla Palacanista Trapani per budget, risorse tecniche, situazione complessiva davvero vanno fatti complimenti a questi ragazzi, è stata una domenica bestiale, dicevamo in apertura sono successe tante cose, una dolorosa perché l'Accademia che giocava la finale per la promozione dalla promozione all'eccellenza contro una formazione palermitana aspra, era in vantaggio fino al 96esimo per 1 a 0, poi ha subito il pareggio 10 secondi dopo il tempo scaduto del recupero e poi ha perso 2 a 1 ai supplementari. Rimane il senso del grande lavoro di questa società che come tante volte davanti a queste telecamere abbiamo sottolineato, curi il settore giovanile in maniera ammirevole e abbia portato anche una prima squadra a ottimi livelli, rischiava il doppio salto mortale dalla prima categoria all'eccellenza in due stagioni, però Alberto Amoroso allenatore e grande filosofo della panchina saprà sicuramente capitalizzare questa enorme delusione e ripartire da questo risultato. Complimenti comunque all'Accademia, il primo contributo che mandiamo questa sera lo possiamo chiamare di festeggiamento di queste ragazze dell'Handball Erice che ieri hanno gioito infinitamente per questo successo di misura su Bressanone, una volta si chiamava così no Bressanone? Sì, ora è Brixen, Sud Tirolma e Bressanone. Vittoria doveva essere, Vittoria è stata, finale scudetto per Erice che emozione provi Ania Sorozucco. Buonasera, niente di dire perché bravo, bravo, siamo in finale come ho detto l'ultima intervista, sì abbiamo fatto questo. Adesso serve un altro step, ne ha giocate tante di queste partite. Che emozione è quella di conquistare questo risultato con Erice? Hai fatto una scelta di vita e adesso una nuova finale scudetto questa volta con la maglia di Erice? L'obiettivo dall'inizio era comunque di rifare qualcosa di bello. Abbiamo fatto tanto ma ancora non abbiamo fatto niente perché ci sta la parte decisiva. Siamo contenti perché sapevamo che era tanto difficile però la squadra ha reagito, tutta la squadra ha reagito e questa è la cosa più bella. C'è qualcosa da aggiustare ma è normale però così si va avanti. L'intensità è stata protagonista in campo, questa gara 3 è stata vinta di squadra. Deve essere questo il fattore determinante anche nella finale scudetto? Sì certo, facciamo uguale e meglio in finale. Questi tre partiti è molto difficile, allora adesso recuperare e dopo finale. E allora Norbert ci infiniamo pian piano nella questione finale, no? Sono tre partite ovviamente a regole invertite rispetto alla semifinale nel senso che il fattore campo è a vantaggio di Salerno, quindi la prima si gioca mercoledì, attendiamo la conferma dell'ufficialità, dovrebbe essere alle 18 se non mi sbaglio, per poi giocare successivamente la domenica ed eventualmente il martedì in gara 3 a Salerno. La tua sensazione della gestione di questo ultimo impegno stagionale comunque sia sarà l'ultimo, partendo proprio dal concetto che dicevamo prima, recupero delle energie psico-fisiche. Sì, tu sai che essendo uomo di sport anche tu, quanto sia importante per arrivare fino alla fine, specialmente quando si gioca poi nei play-off, che lavoro c'è alle spalle, cioè da un punto di vista di staff medico e fisioterapico e di preparatore naturalmente atletico. Noi veramente vantiamo dei professionisti incredibili, l'abbiamo più volte detto, abbiamo la fortuna di avere dal dottor Masnada, dal dottor Russo, da Claudio e Angelo Scribano e dal preparatore atletico Saracino, non meno Fabio Cardillo che è nutrizionista, un attento lavoro fatto su tutto quello che era la rosa. E proprio in questi frangenti, in questi momenti si vede proprio la capacità professionale del lavoro che è stato svolto e che viene svolto sulle atlete, perché recuperare così in tempi brevi devi già avere una prevenzione, devi essere già preparato molto bene prima e durante naturalmente questi incontri che sono, se voi vedete anche ieri la partita, c'è stato proprio un momento in cui c'è stato un aumento di ritmo da parte dell'Hand Boleric nella seconda parte, quindi nel secondo tempo quando aveva strappato, quando eravamo andati più sei, poi è stato bravo il Brixian a rientrare, ma lì si è visto proprio atleticamente una reazione incredibile da parte dell'atleta. Questo è dovuto intanto grande alla capacità naturalmente dell'atleta, però se non ci fosse dietro un lavoro miticoloso di questo tipo che poi chi fa sport lo sanno tutti, diventerebbe dura, quindi adesso in questi giorni naturalmente si lavorerà, si continuerà a lavorare proprio su questo e poi sai meglio di me che queste sono tutte finali, quindi bisogna giocare molto tutto quello che hai, l'adrenalina, cuore, testa e sacrificio totale se vuoi combattere le battaglie. C'è poco da fare. Fabrizio e Alex in sequenza, questo ciclone Antonini, la domanda è uguale per tutti e due, una settimana intensa l'hai definita come avete vissuto all'interno dello spogliatoio, questo cambio di proprietà, questo cambio di atmosfera, questa invasione mediatica sui social di rinnovato entusiasmo. Sì, diciamo che il Presidente è venuto a parlare in questa settimana più di una volta e ci ha trasmesso tantissimo entusiasmo, ha trasmesso a noi squadra ma a tutta Trapani credo. Questa secondo me è stata la mossa vincente per fare bene ieri, ora dobbiamo continuare con questo entusiasmo perché il Presidente è una persona molto ambiziosa e sono sicuro che non si vuole fermare qui, quindi già da domenica dovremo fare una partita importante e portare a casa il risultato perché lui vuole andare avanti. Simbolicamente il raggiungimento dei playoff è importante, vedremo quanto sul profilo concreto è difficile immaginarlo, la Serie D ha sempre quest'appendice di campionato di difficile interpretazione perché è rarissimo che qualcosa si tracca dai playoff, però il ragionamento di Fabrizio è giusto, gli uomini di sport provano ad andare avanti con il loro spessore, con le loro ambizioni. Passo ad Alex, stessa domanda su Valerio Antonini. Sì, è venuto a trovarci in spogliatoio, ha parlato con i ragazzi, penso che la parola chiave della sua entrata sia veramente ambizione, da subito ha passato questo entusiasmo e questa ambizione a tutti quanti. Penso che la cosa più importante adesso soprattutto che noi abbiamo finito sarà mettersi a tavolino, provare a capire intanto quali saranno i professionisti, i dirigenti che rimarranno e provare a strutturare veramente qualcosa di importante. Fabrizio, torniamo un attimo sulla partita di ieri. Dal campo le difficoltà, il Catania spesso ha tenuto il pallino del gioco in mano, voi siete stati molto ordinati, molto bravi, bisogna anche ammetterlo un po' fortunati, sia in occasione del gol annullato al Catania che in quel rigore che forse ci poteva stare, forse no, ma non stiamo qua a sottilizzare perché poi alla fine la vittoria è meritata sicuramente. Come l'hai vissuta dal campo questa gara? Sapevamo che andavamo a affrontare una squadra con individualità molto molto importanti e dovevamo mettere qualcosa in più che derivava da dentro di noi, dalle motivazioni. abbiamo affrontato, come ho detto prima, una curazzata e sì, è vero, però rivedendo l'immagine ho visto che forse il fuorigioco è anche giusto perché credo che Sarau va a disturbare il nostro portiere. Poi sarebbe bisogna avere mille telecamere per vedere quanto... È ovvio che loro hanno avuto due o tre occasioni importanti, però è anche normale. Non è meglio così. Sì, sì, no, no, è anche normale, credo. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi è uscita la nostra forza di carattere, ci siamo difesi molto bene e siamo riusciti a portare il risultato a casa, ecco. Dispiace per questa situazione con i tifosi del Catania, impossibilità di arrivare a Trapani, sarebbe stata, come è stata tutte le altre volte, una straordinaria festa di sport quando c'è stato Trapani-Catania, perché quando il calcio offre questi gemellaggi che noi ci auguriamo che ci siano sempre, poi si riesce a creare un'atmosfera allo stadio veramente ripetibili, anche quando la posta in palio era altissima, in binci, sono state sempre le giornate di festa. Rimane quindi il rammarico di questo che poi ha generato la solidarietà della curva nel non eccedere, diciamo, negli incitamenti, per rispetto, ma comunque così è. Vediamo cosa ha detto il mister Torrisi. Ho definito un gruppo eroico, oggi la Cilecina sulla torta, gli eroi hanno compiuto un'impresa. non devo solo ringraziare i ragazzi, sono stati strepitosi, non eravamo nelle migliori condizioni. Ringrazio la società, il Presidente, per aver messo a disposizione delle strutture esterne per cercare di recuperare gli infortunati che abbiamo in extremis recuperato sabato in rifinitura. È stata una settimana particolare, sotto questo punto di vista è difficile, avevamo problematiche anche a livello numerico nelle sessioni di allenamento, però alla fine sabato erano tutti i ragazzi pronti a questa partita. si respirava un'aria importante che entrò lo spogliatore, la tensione era alta. Oggi sono felice perché se carriera si vuole chiamare, nel mio piccolo percorso e umile che ho fatto in otto anni, penso di aver toccato il punto più alto. Dicevamo con Federico Tarantino che nella prima intervista avevo domandato, avevo chiesto e avevo promesso alla gente di Trapani nella prima conferenza stampa che li avremmo emozionati. Sono arrivato forse un po' in ritardo all'ultima partita, però la promessa è stata mantenuta. Oggi abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, abbiamo vinto una partita con una squadra che si è fatta alla sua onesta partita, lottando, anche a livello agonistico, però alla fine le motivazioni hanno fatto la differenza. Alex, facevi naturalmente cenno alla naturale curiosità nella progettazione che questa nuova proprietà avrà, però ti chiedo di fare un po' come si faceva una volta con le vecchie audiocassette. Facciamo il rev e andiamo indietro, rivediamo il film di quest'anno e proviamo a sottolineare quali sono stati i punti cardine dello sviluppo di questa stagione in in cui, ripeto, spesso vi siete veramente superati. Cito forse una di tutte le vittorie più straordinarie e incredibili che è quella di Torino, in cui non avevo mai visto una partita di palacanestro in cui una squadra che prende 60 rimbalzi perde contro una che ne prende 30. Se parliamo della stagione, sicuramente stagione travagliata. Ce ne sono accadute veramente di ogni, giocatori a partire dall'episodio Jenkins, per poi a passare la polmonita di Carter, per passare agli infortuni di Massone, poi di Mollura. È veramente stato difficile dal nostro punto di vista, come staff tecnico, provare a gestire le situazioni. Ieri parlavamo del fatto che tante volte abbiamo parlato più di gestione che di veramente allenare per creare un sistema offensivo-difensivo. Però in questo siamo stati bravi a compattarci, staff e giocatori, abbiamo portato i risultati a casa. Secondo me la partita più importante che poi ci ha dato il là per andare a guadagnarci la salvezza in quel di Latina, penso sia stata veramente la partita a Torino, dove arrivando veramente a forze dimezzate, perché veramente eravamo cinque giocatori più i ragazzi dell'Under-19 in panchina, siamo riusciti a tirare fuori una prestazione, vittima forse magari anche di un po' di presunzione da parte di Torino all'inizio, però poi un Stumbris stratosferico, Rupil da 17 punti, Andrea, Renzi, Vincenzo, veramente Romeo che ha tirato avanti la carretta perché proprio in quella partita Massone era fuori, quindi sì, assolutamente. Io direi che proprio quei 40 minuti assurgono al simbolo della vostra stagione, no? E a volte è retorico stucchevole dirlo in questo caso, no? Buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? Cioè provare a fare qualcosa che nessuno penserebbe di fare. E poi voglio dire il segreto dei gruppi quando si allineano i pianeti, no? Anche quando raggiunge obiettivi di grandissimo livello, Alex mi pare che possiamo riassumere così. Sì, 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 assolutamente. Cioè la compattezza del gruppo quando ci sono state problematiche, è stata veramente, credo, la nostra forza. Ovviamente rimane il rammarico che se non avessimo avuto tutte queste problematiche magari avremmo potuto ambire qualcosa in più. Ma sai, lo sport è strano, a volte hai due giocatori in più e perti, quindi invece tante volte succede così. Norbert, domanda fuori dalla tua nuvola di cui sopra, che ne pensi di Valerio Antonini di tutta questa storia. Allora, intanto lo ringrazio perché ieri è stato il primo a mandarmi personalmente i complimenti. Ci siamo scambiati durante anche la partita del Trapani, ci siamo scambiati un po' di messaggi. Niente, io ritengo che hai detto bene, sta rappresentando un ciclone che Trapani forse aveva bisogno di questa energia, poi al di là di quelli che naturalmente sono i progetti. È normale che per poter realizzare i progetti, come dice lui, bisogna che ci siano diverse casualità e gli eventi che si devono naturalmente andare a realizzare. Lui ha fatto un grande puzzle, lui sta creando un grande puzzle, deve crearlo mettendo naturalmente le piedine giuste per vedere finalmente questo puzzle. Quindi io penso che abbiamo avuto modo di scambiare diverse... ci siamo visti un po' di volte, abbiamo delle idee, come ha detto anche lui, abbiamo delle idee comuni. Vediamo lo sport nello stesso modo, vediamo l'interesse che deve avere il territorio e di quello che si vuole fare, perché come ho sempre detto, per me Trapani è la città dello sport, oltre a quello della cultura. E proprio sono due aspetti dove mancano, se ci fai caso Fabio, da noi, dico da noi perché tu sai quanto io mi sento a Trapanese, al di là del fatto che sono nato, ma proprio io amo questo territorio. E sono due aspetti fondamentali dove abbiamo una carenza notevole, no? E quindi sport e turismo, sport e tante tante altre cose. Lui ha delle idee ben chiare e io sono molto contento che sia arrivato in un momento che sta facendo veramente, come hai detto tu, lui è un ciclone, sta creando proprio, sta portando questa energia positiva che però la sta concretizzando, perché allo stato di fatto, dobbiamo essere sinceri, è arrivato, ha preso, è diventato presidente del Trapani, anche se ha avuto un po' di difficoltà, del basket, quindi insomma, di fatto sta facendo. Noi abbiamo, come ho detto, stiamo parlando, abbiamo delle idee comuni, sicuramente su una famosa idea di questa polisportiva che debba essere, che debba, che debba essere naturalmente un coinvolgimento da parte delle altre realtà sportive. Io penso che sia, non fatto molto positivo, io penso che lui è un ciclone, noi siamo stati un po' un tornado, no? Come sport. E magari se riusciamo a trovare le sinergie insieme, delle sinergie, concretizzandole, potrebbe diventare una tempesta perfetta. Una tempesta perfetta, che poi, se guardiamo bene, ha le sue origini in questa città, un po' dall'America's Cup, Norbert, perché poi da lì si è preso l'abbrivio per tutto quello che è successo, Serie B compresa per quattro anni e poi per un altro anno, e poi la Palacanestro che per dieci anni ha tenuto la due, insomma lo sport ha sempre trainato un po' le sorti di questa città, e è riuscito a cavalcare l'onda positiva. Ciclone Antonini, vediamo che ha detto ieri. Ho detto che vittoria doveva essere, vittoria è stata, è veramente emozionante, è stata una giornata per me indimenticabile per l'affetto che ho ricevuto e la partita non poteva che concludersi con una vittoria. Abbiamo avuto veramente contro una squadra che non ci ha regalato nulla, fino all'ultimo l'ho cercato di pareggiare, io mi aspettavo un Catania molto più arrendevole, invece onestamente hanno fatto una grande partita, e solamente perché i nostri ragazzi hanno dato il 200% in campo siamo riusciti a vincerla. Tra l'altro siamo stati anche vittime di un arbitraggio un po' di parte, ma succede quando incontri squadre più forti, e quindi ci dobbiamo abituare a queste cose. Però sono molto soddisfatto, ho ringraziato tutti, i giocatori erano entusiasti, il mister piangeva addirittura, quindi è un grande inizio, e dai grandi inizi si fanno poi grandi carriere, grandi risultati, grandi performance. Io penso che veramente l'entusiasmo che ho visto oggi è solo un inizio, e quindi è tutto in discesa adesso. Fabrizio Carboni, un po' come con Alex un attimo fa ti chiedo di riavvolgere il naso e di andare indietro. È stata una stagione complessa per mille ragioni. L'abbiamo commentata, ti dico anche sinceramente, con qualche difficoltà, nel senso che spesso faticavamo anche a capire cosa accadesse, anche non avendo la possibilità di parlare con voi, perché di solito ce l'abbiamo ogni anno. Cambi di allenatore, cambi di direttore generale, tutti quelli che vuoi. credo anche una certa cifra di disagio, più emotivo che altro, perché anche nella fase del ridimensionamento degli obiettivi, quando si è capito che il Catania scappava, era imprendibile, quindi la società cercasse ovviamente di dimensionare il budget, credo che questo l'abbiate accettato anche in modo sereno. Ma è stata tutto un po' una storia strana, o mi sbaglio? Sì, diciamo che la stagione era partita con entusiasmo, poi ci sono state un po' di problematiche tra direttori, risultati, giocatori che dovevano andare via. Diciamo che lì il gruppo è stato bravo, nel senso che ci siamo uniti, perché anche non era facile, e ci siamo uniti e abbiamo fatto buoni risultati. Se ora siamo terzi in classifica, è grazie all'unione del gruppo e dall'entusiasmo che ha portato questa società. Come ho detto prima, ora non ci dobbiamo fermare qua, perché ne abbiamo passate tante quest'anno, e la bellezza sarebbe finire in modo migliore. Basket e calcio accomunate entrambe da questo grande spessore morale del gruppo degli atleti. Fateci caso, che poi sono gli atleti che qua a Trappera abbiamo sempre amato, non abbiamo mai chiesto grandi doti tecniche, certo poi con Petkovic per dirne una ci siamo divertiti, però quello che abbiamo sempre desiderato è vedere i famosi giocatori che sudano la maglia, e hanno interpretato nel modo migliore tutti questi atleti il nostro sentimento di quest'anno. Ma insomma, guardiamo avanti, Alex, adesso nel vostro albero dello staff tecnico, quali sono, al di là dell'infortunio di Daniele, quali sono le speranze che avete, il messaggio che vi è arrivato dalla nuova proprietà, cosa pensate di fare, rimanete o non rimanete? Allora, ci sono ancora un po' di punti interrogativi, penso che Antonini debba parlare ancora con Daniele in maniera chiara, debba riuscire a capire se effettivamente Valentino Renzi rimarrà, e quindi nel momento in cui si capirà intanto il budget, intanto le persone che rimarranno, penso che potremo metterci a tavolino e veramente incominciare a pensare alla squadra del prossimo anno. Però sicuramente penso che debbano essere date delle risposte a Daniele, per fare in modo anche che Daniele abbia le carte sul tavolo per fare le sue valutazioni. Insomma, da ieri si è aperta la stagione nuova, c'è qualche contratto pluriennale in corso, Andrea Renzi, Marco Mollora e qualcun altro, vedremo un po' come andrà. Norbert, il vostro mercato è stato sontuoso, ma non parlo di cifre perché non le conosco neanche, parlo di qualità di atlete arrivate, ed è quasi passato sotto silenzio il cambio di allenatore, in corso di stagione, che veramente forse vi ha dato anche un valore aggiunto. Sì, come già ne abbiamo parlato quando è successo praticamente il cambio dell'allenatore, sai, non è che sono sempre, come ho sempre detto, non è che sono sempre tutte fiori rose durante l'arco di una stagione, quindi alti e bassi ce li hanno tutte le società. noi era in un momento in cui avevamo anche noi qualche problematica che magari non era emersa all'interno dello spogliatoio, all'interno nostro, abbiamo cercato naturalmente come il nostro modo di operare, un po' in sordina, di riuscire a cercare di rimettere in equilibrio la squadra, naturalmente, nei punti in cui ritenevamo che potevamo intervenire. Il cambio dell'allenatore è stato un cambio che è mirato, naturalmente, con la scelta, naturalmente, anche di un tecnico, la Meghi, che abbia, che ha naturalmente, una conoscenza internazionale, ma nel nostro gruppo riteniamo che lo è fondamentale e quindi diciamo che l'abbiamo azzeccata, così come siamo andati sul mercato quando siamo andati a scegliere giocatrici, perché noi, come tutte le società, ci programmiamo e anche sempre durante l'arco dell'anno siamo sempre in fase, naturalmente, di cercare di trovare soluzioni migliorative, sempre per la società, per il club, e quindi siamo riusciti praticamente a prendere anche quei profili che erano per noi veramente molto importanti. Siamo stati anche fortunati, perché sei meglio di me che non è detto che magari quando tu scegli un giocatore che anche sia di un giocatore importante poi all'interno di una squadra ti dia una resa. Invece da noi è stata veramente, c'è stata una grande integrazione, poi noi abbiamo veramente delle ragazze che sono alcune, hanno tanta esperienza, le giovani si sono integrate bene, insomma, un bel gruppo. Fammi dire, vista proprio da fuori fuori, che la capacità empatica di questa allenatrice di Margarita sia essenziale. Io la vedo parlare sempre, come non vedo mai il suo allenatore parlare, ma non solo quanto, ma come, con una serenità e una capacità di trasfondere, di trasmettere molta serenità, molta fiducia nei propri mezzi dell'atleta. Guarda, ne parlavamo proprio ieri, mentre stavamo bevendo qualche birra in più con lo staff, perché stavamo festeggiando. Quindi l'utilizionista non c'era. L'utilizionista non c'era, perché se lo sai, come vedi, io ne avrei veramente, ne ho tanto bisogno. No, parlavamo proprio questo, stavo parlando un po' con il general manager e così via, proprio di questa serenità, perché sai che non è facile, tu sai che specialmente chi sta in panchina, è veramente difficile nei momenti. Invece, anche a me, per me è la prima volta che o vedo un allenatore, un coach, che abbia questa capacità di riuscire a farsi capire, ma anche negli allenamenti, ad intervenire sempre in un modo ben preciso e molto psicologico. E se questo, perdonami se ti interrompo un attimo, lo innesti nella capacità di gestione di assoluto livello europeo, c'è che un conto è che tu prendi un ragazzo alle prime armi, che arriva magari nel massimo campionato, ma questa capacità di far coesistere queste capacità di altissimo livello è ancora più complesso. Sì, sì, ma infatti parlavamo di questo. A me è la prima, cioè, parlavo in giro proprio, è difficile, capisci, avere... Quindi, meno male che ce l'abbiamo noi e quindi va bene così. Allora, ragazzi, fra un po' parliamo sul serio delle prossime avversarie, perché inevitabilmente andiamo nella seconda metà di questo spazio, di questo lunedì sera. Nel frattempo torniamo un po' a Tramani-Catania di ieri con Giovanni Giuffrida e Francesco Catania, autore del gol decisivo dopo una bellissima finta e un bel destro a incrocio sul secondo palla. Io penso che la squadra ha disputato una grande partita e allora andiamo a analizzare sia il primo tempo che il secondo tempo. Noi, nel secondo tempo è normale, il Catania ha una qualità altissima, perché una squadra che vince il campionato gli facciamo i complimenti, per stare lassù vuol dire che comunque c'è una qualità, c'è una forza nei giocatori. Nel momento in cui sono entrati tre, quattro attaccanti, è normale che inconsciamente un po' di abbassi la stanchezza, anche perché abbiamo fatto un grande primo tempo e il primo caldo per noi era una partita importantissima da vincere a tutti i costi, perché non facendo risultati in casa rischiavi di uscire fuori i play-off e per noi era un'ammazzata, perché comunque già da martedì l'avevamo preparata alla grande, quindi non era facile. Il Catania ha fatto la sua partita, è venuto qua per cercare di vincere, ma noi siamo stati bravi. Forse potevamo sfruttare meglio tre, quattro ripartenze il primo tempo o qualcuno il secondo tempo, però penso da fare un applauso al gruppo squadra del Trapani, perché quando butti il cuore fuori l'ostacolo, a prescindere dalla giocata, è solo i complimenti a tutti i compagni, quindi siamo contenti. Io non lo penso. Il Catania è venuto qua per farsi la sua partita per vincere, siamo stati bravi, dobbiamo continuare. In settimana ci avevano spiegato come andagli a prendere, per i giocatori che tipo di giocatori hanno, hanno la qualità, hanno le mezzale che si buttano, hanno cinque o sei uomini che vanno dietro la linea del centrocampo, quindi è la squadra avversaria, quindi sapevamo i loro punti di forza e anche quelli là, diciamo, deboli. Abbiamo cercato di sfruttare tutto, quindi un applauso a tutta la squadra, perché si è allenata bene, tutti e 25, e questo è importante. Io, secondo me, da martedì l'abbiamo vinto la partita, perché quando c'è l'approccio tutta la settimana, convinti di fare una grande partita, è lì che poi alla fine, la domenica, devi solo andare e vinci. Volevo solo dire una cosa, facciamo i complimenti, parlo perché io insieme a Ciccio sto parlando, volevo fare i complimenti alla tifoseria del Trapani, a tutta la città di Trapani che ci è stata vicina, l'entusiasmo che abbiamo sentito in questi giorni è stato devastante, quindi volevamo dire grazie alla curva che ci ha sostenuto dal primo minuto. ora abbiamo i play-off, sappiamo quello che può dare la città di Trapani, sappiamo quello che può dare la cuve a tutto lo stadio, stringiamoci intorno, abbiamo una partita importante da vincere domenica, raddoppiamo le persone che sono venute al campo, ci aspettiamo 10.000 persone, io so che la città di Trapani lo può fare, ma a prescindere da chi indossa questi colori, perché poi alla fine, sai, ognuno fa le proprie scelte, la società può fare le proprie scelte, oggi noi siamo a servizio del Trapani, indossiamo la maglia del Trapani e combattiamo per questa maglia, quindi tutta la città ci deve sostenere per il bene della squadra e vincere questi benedetti di play-off, che ce li meritiamo. Andiamo a rivedere le immagini che può dare il provinciale ai vecchi tempi, io penso che la partita si può vincere nel riscaldamento, quindi riempiamo sto stadio, facciamo esplodere la curva e andiamoci a prendere questa finale. Ma io penso, io sono di Catania e so che gemellaggio c'è, il rispetto che c'è tra gli ultras del Trapani e quelli del Catania, quindi è un peccato perché era una partita di sport, di calcio, una bella partita, quindi mi dispiace, perde lo sport, però purtroppo non è stata colpa nostra. Manu ha fatto un gran recupero al centrocampo, poi ha dato una gran palla e lì dovevo metterla solo dentro. È stata un'emozione grandissima perché segnare a Catania, la squadra della mia città, è sempre bello. Aspettavo questa partita da più di un anno e la fine della soddisfazione è arrivata. Sappiamo che abbiamo passato sempre periodi difficili quest'anno, però abbiamo avuto sempre i tifosi, la curva, insieme con noi, a sostenerci tutte le partite nonostante tutte le problematiche. Quindi ringrazio tutti i tifosi, la curva, niente, è emozionato. Ma sappiamo che la mezza è una buona squadra, costruita per vincere, giochiamo, ripeto, in casa, ma noi dobbiamo cercare di vincere, non pensare al doppio risultato perché ci facciamo del male. Il gruppo squadra da martedì oggi è giusto che godiamo di questa vittoria, ce lo siamo meritata, ma da martedì cominciamo a pedalare tutti quanti perché è importante, abbiamo bisogno di tutti, nessun escluso, nessun giocatore, nessun giovane, nessuno grande. Questi risultati si ottengono tutti quanti insieme, insieme al pubblico. Quindi abbiamo una partita importante domenica e quindi ci prepariamo bene per vincere. Io direi che le motivazioni oggi sono state tante, anzi tantissime, perché sapevamo che veniva una squadra che non aveva quasi mai perso tra una partita e sapevamo che oggi ci giocavamo tutto. Era una partita da dentro fuori, ora noi dobbiamo mettere la testa a martedì, fare una gran settimana e domenica c'è solo una cosa, vincere. Prossimi avversari dicevamo andiamo un po' più in dettaglio. Mi dispiace di non chiedere ad Alex ma sto giro te lo salti. Pazienza, ma abbiamo già sottolineato ampiamente i meriti della vostra squadra. Fabrizio, andiamo sulla Mezzia, cosa insegnano le due partite giocate in stagione regolare a cui poi peraltro va aggiunta anche quella di Coppa Italia. Il bilancio complessivamente è positivo, non ci sono dubbi. però poi si riparte da 0 a 0, domenica è tutta un'altra storia. Ti chiedo un po' di fare un'analisi fra virgolette tecnica per le due squadre. I risultati ottenuti dal Trapani sia in campionato che in Coppa Italia dimostrano che la Mezzia è una squadra con cui vi virgolette sposate bene oppure no? Ma diciamo che la Mezzia era una delle squadre che ambiva al vertice di questo campionato quindi è una squadra molto importante. È stata un po' attravergente nel corso di quest'anno però ha giocatori importanti soprattutto nel reparto offensivo ha dei nomi importanti. Io penso che a questo punto della stagione quel che si è fatto si annulla in po' e sono partite sono singole partite quindi si annulla tutto noi sappiamo che dobbiamo entrare in campo per fare la nostra partita e portarla a casa per fortuna giochiamo giocheremo al provinciale dove ieri c'è stato un clima emozionante assurdo speriamo che sono sicuro che i nostri tifosi saranno ancora più numerosi perché ieri ho visto un coinvolgimento stratosferico Sì Travani poi alla fine è questo si accende un attimo una scintilla e si risveglia perché la cultura di sport c'è come andiamo su Salerno Norbert squadra arrivata prima in stagione regolare la partita è alle 18.30 mi segnano dietro le telecamere non alle 18 ma l'errore di Norbert che me l'aveva detto a telecamere è spenta quindi ripetiamo mercoledì 18.30 Enbol Erice Salerno ma lo sottolineeremo durante i TG ampiamente al Palacardella ovviamente allora Norbert dicevamo Salerno è arrivata prima in stagione regolare questo denota l'ovvia forza di una squadra costruita per vincere lo scudetto diciamo che il sorpasso che avete compiuto alla penultima giornata di stagione regolare se mi ricordo bene riuscendo a ottenere il secondo posto è stato importantissimo l'ultima 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 forse in visione proprio di come è andata questa semifinale con la Bella in casa e le due ultime finite di misura che succede che squadra è Salerno rispetto alle vostre caratteristiche come come leggi questa sfida adesso te lo chiedo da uomo di palla a mano non più solo di sport Salerno naturalmente è una corazzata anche perché è come negli ultimi diciamo negli ultimi 8-9 anni ha dettato legge ora sono due anni che una per l'anno del Covid in cui non ci sono state le possibilità di giocare le finali e l'anno scorso dove non ha vinto quindi non è un fatto normale che il Salerno non vinca quest'anno ha già perso il primo appuntamento che era la Coppa Italia ed è uscita praticamente proprio con noi nelle semifinali quindi loro sono una squadra che si sono anche loro rinforzate nella seconda parte del campionato è una squadra dove la maggior parte delle giocatrici italiane fanno parte della nazionale sono giocatrici di grande esperienza hanno degli ottimi terzini quindi eali giovani ma di grande già esperienza nell'ambito delle nazionali giovanili hanno anche loro un portiere un po' come noi che abbiamo la Masson a livello internazionale molto importante diciamo che forse peccano se devo dire una cosa forse non hanno una grande rosa ecco da un punto di vista sono forse leggermente in difficoltà per quanto riguarda la rosa e forse nei cambi però è una squadra che insomma ha vinto il campionato dando 5-6 lunghezze in questo caso alla seconda quindi la partita sarà sicuramente loro giocheranno cercheranno di giocare molto sulla velocità un po' quello che ha fatto il Brixen noi siamo noi siamo una squadra un pochettino più lenta nei rientri quindi all'andata di quest'anno ci hanno colpito proprio sul punto del fatto di non rientrare molto velocemente e hanno la palacanistra quando ci sono le serie di playoff si dice sempre che il gara 1 è la più importante e così anche in questo caso sono d'accordissimo perché anche se il fatto che noi giochiamo a casa ed è importante naturalmente loro hanno la possibilità di giocare le due fuori casa ma intanto come si dice iniziamo a giocare a vincere a casa se riusciamo a portarci questi due punti subito a casa poi là è vero che loro noi arriviamo naturalmente con la prima casa vinta mettiamo pressione a loro sai meglio di me che quando tu l'abbiamo visto noi con il Brixen giocare avendo vinto fuori e sembrava che fosse molto più semplice ma non è mai così perché chi arriva da te arriva e vuole ribaltare il risultato e anche quando sembra che tu hai le due partite a casa non è così intanto portiamo questi due punti se riusciamo ce lo auguriamo ma sarà veramente molto difficile però siamo nella finale tu sei meglio di me la finale ogni partita è a sé va bene ragazzi siamo quasi in chiusura di questo appuntamento una curiosità per Fabrizio ora quando fai l'atteleta professionista noi vedi uno stravolgimento tu hai fatto molto bene questa Natrapani ti va riconosciuto sul profilo individuale anche se poi naturalmente parlare di uno sport di squadra è sempre una cosa più complessa quanto la molla di questa nuova proprietà spinge anche individualmente a dire però Caspio mi piacerebbe rimanere ma sicuramente come ho detto prima il presidente ha portato tantissimo entusiasmo e lo porta anche a noi individualmente perché siamo in serie D e giocare in una piazza del genere è bellissimo poi se quando usciamo dal tunnel vediamo lo stadio praticamente quasi pieno ti vengono i brividi e quindi è quello che cerca un diciamo un calciatore quando quando scegli una squadra no? è bellissimo perché poi la settimana la senti diversamente sai sai che devi per forza far bene e poi domenica era ancora una partita sentitissima da tutti e per noi è motivo d'orgoglio ecco giocare il più bel mestiere del mondo allenare un po' meno Alex è più faticoso ti fa stare a pensare H24 schemi quello l'altro troppo stress troppo stress Norbert tu su cosa ti stressi io mi stresso sempre ti rimproverano che parli troppo eh? ti rimproverano che parli troppo eh sì poi io parlo poi io mi piace sei pure squalificato come dobbiamo fare con te? perché io forse dico quello che penso e quindi sai che a volte non è molto non è molto io volevo da te pure la coppa disciplina non ce l'ho fatta no ma neanche quando giocavo devo essere sincero io neanche quando giocavo devo essere sincero non è il premio far play non l'ho mai non l'ho mai non l'ho mai non l'ho mai vito quindi con la coppa indisciplina di Norbert Biasizio che vi diamo l'appuntamento di questa sera vi ringrazio per essere stati davanti a noi sui tre schermi anzi davanti ai tre schermi e speriamo sempre di commentare domeniche bestiali così ci dispiace per l'accademia un po' per la palaganista Trapani ma insomma brava Lenbo Lerici in bocca al lupo bravissimo anche il Trapani Calcio in bocca al lupo Fabrizio Carboni Norbert Biasizio Alex Latini grazie grazie a voi grazie a voi buona serata grazie a voi